Ok, ciao. Siamo qui a quest'ora di sera, siamo davanti alla casa parrocchiale. Ora ci recheremo nell'orto degli ulivi, proprio qui dietro, per la penultima prova della passione vivente che ci sarà domenica sera, domenica delle palme, alle 18.30, partirà proprio da qui. Abbiamo pensato insieme con un gruppo di persone portante che poi si è allargato a tutto il paese e che sono tutti intorno a noi ora i personaggi, per rivivere la passione di Gesù. Quindi ci sono Gesù, gli apostoli, i soldati, abbiamo costruito e realizzato costumi, scenari, croci, insomma tutto ciò che serve per rivivere quel momento della passione. Sono contento perché si è allargato a tutto il paese, quindi sono più di 80 figuranti e speriamo che questo ci aiuti a, come dirà, a saper entrare col cuore giusto nella settimana santa e a comprendere il cuore di Cristo, cioè il motivo per cui Gesù ha fatto tutto questo, tutto quello che ha fatto per noi. Ecco, sono i personaggi intorno a noi, siamo pronti per sia i lettori, siamo tutti pronti per provare, sono già tante prove che facciamo. Poi sabato pomeriggio faremo le prove in costume, quindi anche con l'inalzamento sulle croci e tutto ciò che servirà e quindi speriamo bene, sono felice di questo. Poi per chi vorrà venire domenica vedrà ciò che siamo riusciti a compiere, ce l'abbiamo messa tutta, poi in quanto a materiali, a scenografia è tutto pronto. Ora tutto si gioca sulla recitazione, sull'attore che riesce o no ad entrare nel personaggio. Per cui grazie e vi aspettiamo. Ciao.